Dalla Cina e dalla Russia ci sono dei clienti particolari? Guardi, io dico la verità, quando si arriva a un certo livello di clientela, i clienti si assomigliano. Sicuramente i russi di 15 anni fa non sono i russi di oggi, i russi sono evoluti molto, io penso che lo stesso succederà con i cinesi, però poi quando si incomincia ad arrivare a certi livelli, le esigenze, le voglie di questi clienti si assomigliano molto. Questi sono personaggi dove tutti cercano di rubare qualcosa, se invece uno gli offre famiglia, se uno gli offre amicizia, si sentono a casa loro e sono molto più disponibili. Beh, l'impegno, perché poi i clienti saranno anche numerosi, quindi i contatti... Ma è un impegno piacevole perché sicuramente uno riesce a entrare a contatto con persone che secondo me in altri lavori è molto difficile conoscere. I figli, appunto, che rapporto ci può essere con i figli? Beh, io ho la fortuna di avere tre figli, di cui due oggi sono in azienda. A te me li sto godendo oggi in azienda perché sicuramente... Sono maschi o figli? Sono tre maschi. Sicuramente la nostra vita è molto in giro per il mondo, io viaggio circa 200-220 giorni all'anno. Up in the... come dicevo... In giro per il mondo. Quindi non è che c'è tanta possibilità di stare insieme. Oggi che due dei tre stanno in azienda sicuramente me li godo molto di più, ma anche loro oggi stanno incominciando a fare la vita che ho fatto io. Uno è appena rientrato dalla Cina, uno è appena rientrato dal Giappone. Quindi anche loro prima o poi cominceranno a viaggiare come delle trottole. Adesso una domandina di quelle delicate. Ma l'amore, visto che uno gira tanto e il marito non è che lo vede tanto, e che mogli si può essere con un marito come... Bisogna trovare delle mogli che ogni tanto ti riescono anche un po' a seguire, che secondo me è importante. Ogni tanto ricreare quello spirito quasi da fidanzati. Grazie allora. Grazie a voi.